Il rosario venerdì sera alle 21, il funerale sabato mattina alle 10, nella chiesa di Corte di Piove di Sacco, la frazione dove Andrea Bellingardo viveva con la famiglia, i genitori Marina e Massimo, la sorella Maggiore, le due nonne. Aveva 19 anni Andrea, una vita piena di progetti a partire dall'apprendistato che avrebbe dovuto iniziare lunedì scorso nella Falegnameria Mobilificio di Brugine dove aveva svolto il tirocinio. La sua vita si è spezzata poco dopo il mezzogiorno di sabato scorso lungo la statale di C106, poco fuori la città di Pago, mentre rientrava da un periodo di vacanze in Croazia con altri due ragazze e quattro ragazze residenti tra Piove di Sacco e Campolongo Maggiore. Un enorme dolore per la famiglia che si sta scontrando anche con le difficoltà burocratiche e amministrative, dalla fatica di ottenere nulla osta per il rientro della Salma alla mancanza tutt'oggi dei risultati dell'autopsia eseguita lunedì in Croazia. Tanti gli amici di Andrea pronti a dargli l'addio sabato mattina, amici che in questi giorni non hanno fatto mancare la presenza e il sostegno alla famiglia.